no o perché non bisogna rubarli con la penna lì, registrarli qualche tutta non si fa che sezione e poi ce la vediamo. Come ti scarica? Sorpresa. Dica. Come sei? Ho detto sorpresa quando scarico. Ti chiami se non è venuta la città del dottor Rao? No. Praticamente Wilson, posso raccontarlo? Sì, sì. Wilson ha preso un cancro sul dottor e il tuo collega. Ah sì, lo so. Allora l'ho visto. L'ultima vi faceva la chemio ultra. Sì, sì, a casa sua. A casa sua? Praticamente lui è per due giorni stato in coma. Sì, sì, gli ha fatto le foto. Ah, l'ho vista? Sì, l'ho vista, l'ho vista. Allora, infatti non era l'uso. No. No, no. Era la penuta. Sì, ha chiamato tutte le puttane. Veramente. Sì. Mentre la vita si faceva la chemio in coma, tutte queste puttane nude. No, il cefalo qui no. Non me lo devi fare da macchia, Robertino. Non me lo devi fare, cazzo. Vedi che c'è dentro fuori il tuo forno. Cazzo, 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 cazzo. Doppio video, senza stop. Lo devi guadinare? No. Lo guadini? Lo sento con l'altro scappa. Robertino, adesso capisci, eh? Cosa vuol dire, eh? No, cazzo, ti ha aperto lo stivale scosso. No, davvero. Sul piede, cosa è combinato? Ah, chè? Cosa in macchina non sali cefalo era il tetro che era termosaltato mi ricordo più ed ecco a qua su